Brescia a Spartiacque, provare naturalmente a vincere senza però rischiare di perdere. Seduta di rifinitura spostata nel pomeriggio. Certe le defezioni di Bocchetti, Drudi, Tabanelli, Balzano e Memusciai. In dubbio Galano, Omeonga, Rigoni e Bellanova. Il nazionale Under 21 accusa un fastidio all'adduttore. In caso di forfè, pronto gut. Grazie a Donia. Mi aspetto una grande partita contro una squadra in grande salute. che è in piena corsa playoff. Ma noi siamo il Pescara, stiamo bene. Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e lo raggiungeremo. E quindi siamo pronti a dar battaglia. L'obiettivo, la mentalità deve essere sempre quella di giocarsi le partite per vincerle. Noi lavoriamo su questo con grande rispetto verso chi affrontiamo. Ma ripeto, questa squadra, il Pescara, non è inferiore a nessuno. In generale, difendere bene per attaccare meglio non significa essere rinunciatari. Per me è un concetto basico. Ecco, col Pisa c'è stata una grande fase di non possesso. Il Pescara è stato molto bravo a ripartire. Col Monza, direi bene sul piano del gioco. Ha giocato nettamente meglio il Pescara del Monza. Si vede anche che sta lavorando su dei movimenti offensivi. Che prima non avevamo visto. Però vi motivi, no? Perché doveva rimettere a posto la squadra anche sul piano fisico. Anche sotto questo profilo c'è qualche rimpianto? Perché c'è poco tempo, no? Sì, ha detto tutto lei. Bisognava dare un assetto di fiducia alla squadra, soprattutto di compattezza. L'obiettivo deve essere oggi quello di continuare a lavorare sull'autostima, continuare a lavorare sul cercare di fare la partita sempre e comunque. Di mantenere un grande equilibrio che oggi questa squadra con il tempo, con il lavoro sta acquisendo. Di mettere dentro dei calciatori di qualità che devono prima di tutto però imporsi una fase difensiva che sia costruttiva, che sia di gamba. Voi tutti mi avete crocifisso col cambio machine gusellato. Ma quel cambio era un segnale forte alla squadra perché si voleva vincere la partita e vi invito a rivedere il terzo gol dove non c'è stata un'imbarcata. Eravamo tutti schierati, quindi il messaggio alla squadra era vinciamo la partita, mettiamo dentro un calciatore di qualità, ma abbiamo abbassato rigoni play. Tutto qua. Poi io vi ascolto sempre con grande piacere e cerco di imparare da quello che voi in maniera costruttiva chiaramente fate perché il vostro lavoro è questo. Siamo noi che impariamo, mister. Lei è un allenatore, quindi non... Assolutamente no. E anche più semplice, no, lei ha ragione, è anche più semplice poi parlare a posteriori, ci mancherebbe. Il Brescia è una squadra fisica ma anche di qualità. Sviluppa bene il gioco sulle fasce. Ho visto l'ultima partita con la Reggiana dove la Reggiana in realtà ha fatto meglio, secondo me. Pressa alto, ma nel contempo concede. Ecco, tatticamente il Pescara, secondo lei, dovrà essere abile nelle transizioni. Potrebbe affidarsi di più alle verticalizzazioni per sorprendere il Brescia? Ma io lo dividerei sulle due fasi, nel senso che dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla a lavorare su quello che abbiamo fatto in questi giorni con personalità e quando non abbiamo la palla bravi a leggere quello che loro fanno molto bene perché è una squadra che attacca prevalentemente con cinque uomini davanti, che cerca di fare sempre la partita, quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene sulle coperture e poi ad essere ficcanti nel momento in cui recuperiamo palla. Ma principalmente mi piace pensare quando la squadra ha la palla a quello che deve fare. Secondo me lei sarebbe capace di ricostruire qualcosa di importante a Pescara. Lei ha questo desiderio? Io ho il desiderio, ma credetemi, non forte, ma di più di salvare il Pescara perché ci credo in una maniera incredibile. Tutti, parlo del mio staff, parlo anche dei calciatori, parlo di tutti i collaboratori, si è creato un gruppo forte. Parto dai magazzinieri, parto dai fisioterapisti, parto dai medici, parto da Max che è qua vicino a me, parlo di Gessa, parlo di tutti, non vorrei dimenticare nessuno. Tutti abbiamo sposato la causa perché questo Pescara deve salvarsi, perché ha tutte le qualità per farlo. Poi per il resto, credetemi, non mi interessa veramente niente, mi interessa solamente salvare il Pescara e arrivare all'obiettivo. Guai se pensassimo altro in questo momento, non possiamo perdere energia in altre cose. Grazie.